Euromercati e democrazia 2014, l'Italia può farcela. Siamo qui a Montesilvano, Pescara, un convegno per parlare di euro, di crisi. Crisi italiana ma anche dell'eurozona. Un convegno interessante, di grande qualità scientifica, che credo debba essere ascoltato da tutti, in particolare da chi ha responsabilità politica e chi è in Parlamento, perché siamo davvero un bivio. La situazione attuale è insostenibile, vanno trovate strade alternative, tutte le ipotesi sono in campo, anche quelle che fino a qualche tempo fa venivano considerate eretiche, perché altrimenti l'eurozona e l'Unione Europea insieme ad essa va a sbattere. Quindi dobbiamo provare a correggere la dotta, anche a prendere misure drastiche e oggi qui i discorsi sono stati di grande interesse. La situazione politica le sembra chiara da questo punto di vista? No, non lo è. Permane una prevalenza di chi continua a credere che seguendo le ricette di Bruxelles si possa uscire dal tunnel, mentre ritengo si vada a sbattere. Penso che bisognerebbe prendere atto che le condizioni politiche oggi in Europa non vi sono per una radicale correzione di rotta, per quella radicale correzione di rotta che serve e quindi bisogna mettere sul tavolo altre opzioni. Il superamento dell'euro verso approdi politicamente da definire, come possono essere due o più monete o il ritorno alle monete nazionali, è un punto da affrontare, prima che sia troppo tardi. Da affrontare soprattutto sul terreno politico, perché credo che oramai anche gli economisti più ortodossi abbiano chiaro che la rotta attuale porta l'Eurozona al naufragio. Mi pare che sia l'agenda politica ancora molto chiusa rispetto a dati di realtà inequivocabili.